Ciao a tutti e benvenuti a queste lezioni di terremoto. Io mi chiamo Daniele e sono uno geoscienziato e divulgatore scientifico di Trieste. Spero siate seduti comodi per godervi questo primo incontro. Allora partiamo dall'inizio ovvero 4,5 miliardi di anni fa quando il nostro pianeta si è formato. Scherzo non partiremo proprio da lì andiamo un pochino più veloce ma bene o male oggi come oggi lo conosciamo in questa forma giusto? Ma non è sempre stata così la nostra terra. Anzi ha passato molte vicissitudini per arrivare a come la conosciamo noi oggi e ovviamente non sarà sempre così. La sua superficie è in continuo cambiamento nel senso che i continenti, gli oceani, i mari, i fiumi, le montagne e tutto il resto sono in continua evoluzione. In questo sono molto importanti i terremoti. Ma facciamo un passo indietro per parlare della struttura interna della terra al fine di capire com'è fatta e come funziona al suo interno. La terra sostanzialmente è come un uovo. Al posto della scorza abbiamo la crosta terrestre su cui noi viviamo, sotto abbiamo l'albume ovvero il mantello e infine lo strato più profondo è il tuorlo. No scusatemi non è il tuorlo ma il nucleo. Partiamo da quello più profondo il nucleo. Il nucleo terrestre inizia dal centro della terra che si trova più o meno a 6371 chilometri. Se ci pensate non è poi così tanto. Se andaste da Bolzano a Reggio Calabria cinque volte fareste più chilometri. Ed il nucleo terrestre dal centro della terra arriva fino a 2900 chilometri di profondità dove si trova la discontinuità di Gutenberg che determina il passaggio allo strato successivo. Come vedete fa parecchio caldo là sotto. Trovate praticamente solo ferro e nickel. Ah va detto che il nucleo in verità si divide in due. Più o meno a 5000 chilometri di profondità si passa da quello interno che è bello cristallino, viscoso, duro praticamente, a quello esterno che è liquido. Ma non mi soffermerai troppo sul nucleo e risalirei verso il prossimo strato. Ovvero il mantello. Allora un po' di cose sono cambiate. Giusto? La temperatura è scesa. Dai 4000 gradi al contatto con il nucleo arriviamo ai 2000 gradi al contatto con la crosta terrestre, lo strato che c'è più su. La composizione chimica è anche molto cambiata. Non abbiamo più ferro e nickel ma silicio e magnesio che si trovano in uno stato viscoso plastico. Immaginatevi un budino, bello denso. Infatti una cucchiaiata di questo budino, che possiamo approssimare a un cubetto di un centimetro di lato, peserebbe 3,3 grammi. Prima non l'ho rimarcato ma la densità del nucleo, come avete visto dalla slide prima infatti, varia da 13 a 9 grammi per centimetro cubo. Quindi se giocaste con un cubo di rubik, che più o meno ha 10 centimetri di lato, fatto di nucleo terrestre, questo peserebbe dai 13 ai 9 chilogrammi. Bella fatica. Ebbene, questo budino nel mantello è praticamente messo su un fornello, ovvero il nucleo terrestre, quello che c'è sotto. E questo budino non è immobile. Ma come l'acqua, quando è messa sul fuoco, anche il mantello ha dei moti convettivi al suo interno. Sapete cosa sono i moti convettivi? Beh, vediamoli. Guardate che carini. No? Li vedete? Allora, qui siamo in cucina e quello che vedete non è altro che un pentolino di vetro, con dell'acqua dentro, messo sul fornello. Al centro vediamo l'acqua e i suoi moti convettivi. Dunque, i moti convettivi avvengono ovunque in acqua, in aria e in qualsiasi altro fluido, ovvero sia liquidi che gas, quando questi sono in presenza di una fonte di calore. Quando noi scaldiamo qualcosa, quello che facciamo è agitare le molecole. Quindi, se le molecole si muovono, possiamo dire che c'è più spazio tra loro e quindi la densità diminuisce. Ma se la densità diminuisce, il peso anche. Perché? Ed ecco perché l'acqua calda che è sul fondo del pentolino sale, perché è più leggera di quella fredda. Una volta arrivata in superficie, l'acqua calda si raffredda e quindi le sue molecole si avvicinano, la densità aumenta, come il suo peso e quindi precipita sul fondo, di nuovo, dove però si riscalda, di nuovo, e il ciclo ricomincia, di nuovo. Nella parte alta si vede la superficie dell'acqua vista da sotto, con delle cose che galleggiano e si muovono. Ecco, esattamente come fa la crosta, o meglio, le sue placche terrestri in cui è divisa. Ed eccoci finalmente arrivati in superficie, alla crosta terrestre. Beh, la conosciamo, no? Direi. La temperatura va da quella che sentiamo noi, in superficie, e poi aumenta con l'aumentare della profondità, man mano che ci si avvicina al mantello. Lo spessore della crosta è variabile. Avete presente gli iceberg, che hanno la famosa punta dell'iceberg, la parte emersa, e sotto una massa di ghiaccio molto più grande, sommersa? Ecco, la crosta è molto simile. Infatti, nelle zone montuose, per lo stesso principio dell'iceberg, arriva a profondità anche di 90 km, ed è questo il caso dell'Himalaya, per esempio. Mentre sul fondo degli oceani può avere anche un piccolo spessore di pochi chilometri. La composizione è prevalentemente di silicio. Sì, non abbiamo solo silicio sulla crosta, conosciamo bene tutti quanti gli elementi, ma il silicio è quello più abbondante che crea un sacco di legami con tutti gli altri elementi. La densità, come notate, è diminuita. Piccola parentesi, avete notato come gli elementi più densi si sono messi al centro della Terra e man mano che ci allontaniamo dal centro troviamo le cose più leggere? Sì, esattamente. È una questione di gravità. Le cose più dense e massive si sono messe al centro della Terra e man mano che si va in superficie ci sono le cose più leggere e meno dense. Anche qui, attenzione, bisogna specificare che la crosta è presente in due tipi. La crosta continentale, che compone i continenti, è quella oceanica che si trova sul fondo degli oceani. Hanno due composizioni diverse, infatti la densità, come vedete, l'ho messa con due valori. C'è la densità della crosta continentale, che è quella più bassa, 2.7, e poi c'è la crosta oceanica che è più densa, 3.3 grammi per centimetro cubo. Infatti è molto simile a quella del mantello. Una cosa importante adesso che bisogna dire è come si comporta questa crosta. Si comporta in modo rigido, fragile. Cosa vuol dire? prendiamo l'esempio di questo stuzzicadenti. Ha una certa elasticità. Se io lo piego, entro un certo valore di sforzo, lui ritorna alla forma iniziale. Ma se supero un certo valore, lui non riesce più a deformarsi elasticamente e si spezza. Il mantello, quindi, con i suoi moti convettivi, costantemente agisce come le mie mani sullo stuzzicadenti, ovvero deforma la crosta terrestre, che si deforma elasticamente. Ma quando si supera un certo valore, la roccia non resiste più e si spezza, creando faglie, ovvero spaccature nella crosta terrestre. Le faglie sono i piani che separano i pezzi di crosta terrestre, che possono essere molto grandi e quindi separano le famose zolle o placche terrestri, oppure possono essere delle linee più piccole. Sono molto importanti in geologia, perché regolano i movimenti relativi tra i pezzi di crosta. Due placche si possono allontanare una rispetto all'altra, oppure scontrare e accavallarsi, oppure infine scorrere una fianco dell'altra. Gli epicentri di terremoti si trovano sempre su questi piani, quindi arriviamo a un concetto molto importante, ovvero... Esatto. Dove è già capitato un terremoto se le condizioni tettoniche, diciamo, e gli sforzi geologici a grande scala sono sempre quelli, è tendenzialmente così, prima o poi ricapiterà in quel punto, perché le placche si muovono sempre in quel modo una rispetto all'altra e sfrutteranno le faglie, le spaccature, per spezzarsi ancora e per liberare lì la loro energia che hanno immagazzinato negli anni. Ma torniamo un attimo indietro. Chi ci ha detto come è fatta dentro la Terra? Tutta questa storia di mantello, nucleo, crosta, moti convettivi, ferro, nickel e via dicendo, come l'abbiamo ottenuto, secondo voi? Beh, la do la risposta, come si dice sempre in questi casi. A presto. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.